Passiamo ora ai nostri ospiti in studio per affrontare il tema della puntata odierna che è appunto quella della bolla immobiliare e quindi rivolgo subito sia Antonio che Valerio la prima domanda della serie ripeto tutte difficili, vediamo un po' se avete capito un po' la prima parte teorica Allora i mercati immobiliari già maturi di Gran Bretagna, America e Francia negli anni 80 registrarono un crollo che pochi si ricordano del 50% in un breve lasso di tempo di 6-8 massimo 10 mesi Qual è lo stato di maturazione del mercato immobiliare italiano? Diciamo che dalle rilevazioni che noi effettuiamo attraverso la Borsa Immobiliare di Milano che hanno carattere semestrale, che analizzano l'andamento dei prezzi Quindi la sensazione è che si sia arrivati a un mercato tra virgolette maturo cioè rispetto a una situazione di crescita molto forte degli anni passati che ha portato a quasi il raddoppio dei prezzi negli ultimi 10 anni si nota un assestamento Questo a mio avviso può significare due cose che da una parte il gran bisogno di casa è stato risolto quindi la domanda è stata parzialmente soddisfatta dall'altro forse, e questo è più inquietante la capacità di acquistare casa è diminuita E questo infatti è un punto importante di evoluzione anche socio-economica Quindi rilancierei la stessa domanda a Valerio focalizzando proprio per le sue competenze, esperienze e anche per le sue visioni gli aspetti più finanziari, tecnici ossia sulla possibile maturazione di questo mercato Ecco, maturo ha due significati maturo in termini di prezzi e concordo con la spiegazione dell'ingegnere Pastore maturo in termini di struttura del mercato a mio avviso il mercato italiano non è ancora maturo come gli altri mercati ma è sulla buona via non è ancora maturo perché perché viene da una tradizione che direi post bellica di mercato relativamente incessato vuoi per la normativa degli affitti vuoi per problematiche di questo tipo e viene da una situazione di conservatorismo delle istituzioni finanziarie preposte a finanziare l'acquisto dell'immobile che non era presente negli altri mercati quindi il mondo degli affitti è migliorato il conservatorismo delle istituzioni finanziarie è diminuito per cui la maturità del mercato si avvicina ai grandi mercati dell'Occidente 20 anni fa era impensabile finanziare in Italia il 100% dell'acquisto di un immobile oggi è possibile ecco oltre a questo aspetto ne approfitto ancora con Valerio valore anche di immobile non più come bene primario ma secondario sia negoziabile a scopo anche speculativo ecco questo è un altro aspetto immagino che abbia comportato la maturazione del mercato sicuramente l'immobile ha una funzione di classe di investimento all'interno dei portafogli degli individui delle società e così via in condizioni particolarmente favorevoli per l'investimento immobiliare l'atteggiamento vuoi del pubblico vuoi delle società a investimenti di portafoglio immobiliari è aumentato se siano opportuni adesso o meno è tutto un altro discorso chiaramente ne approfitto per mostrare a voi e anche ai spettatori questo interessante grafico trentennale quasi più quasi quarantennale parte del 68 che mostra appunto i trend dei prezzi reali in Italia degli immobili quindi evidente il trend ma un trend divergente ossia le oscillazioni aumentano tradotto in termini più finanziari la volatilità sta aumentando siamo ormai una parte superiore della banda quindi il discorso di mercato maturo è anche indicato da questo grafico e con questo spunto passo alla seconda domanda di nuovo per entrambi visto la sua forte valenza sia finanziaria che sociale e abbiamo parlato della complessità in questa puntata abbiamo capito che uno dei talenti principali nel mondo della complessità è saper immaginare scenari futuri prima e meglio di altri ebbene allora chiedo ad entrambi con un grande sforzo forse di fantasia quale può essere questo evento trigger capace di scatenare un crollo dei livelli che vediamo attuali molto alti degli immobili parto da Antonio Pastore sicuramente è una domanda interessante abbiamo visto come nel grafico ma anche nei ragionamenti che l'hanno preceduto come l'analisi del sistema si è analisi del sistema complesso nel quale giocano diverse variabili quindi riuscire ad immaginare cosa possa accadere e come verrà la sfera di cristallo si può però ipotizzare cosa accadrà se avvengono una serie di cose allora prima domanda stiamo parlando di immobili ma quindi di un bene strumentale per le persone l'abitare è uno dei bisogni primari dell'uomo quindi la prima domanda che ci si deve porre è ma esiste ancora una domanda di questo tipo di bene perché se un po' non esiste domanda e allora sicuramente sulla scala della nostra visibilità che è quella di Milano della provincia comunque molto analoga alle grandi province industriali di Torino o delle grandi città come Roma, Genova sicuramente il fabbisogno casa esiste ancora per due motivi il primo per il miglioramento la ricerca del miglioramento delle condizioni abitative negli ultimi 50 anni si è sempre spostati verso spazi più gradevoli più confortevoli il secondo l'aumento della vita media che ha fatto sì quello che era un nucleo familiare a un certo punto quando i figli arrivano da 30 anni si fraziona in tre nuclei familiari quindi esiste la domanda e questo sotto l'aspetto del mercato è un fatto positivo perché è un mercato che ha ancora dei bisogni il secondo punto è ma esistono da parte dell'utenza finale le capacità finanziarie per soddisfare questa domanda che è il bisogno di abitare e qui si incomincia a aprire uno scenario che invece è un pochino meno positivo la domanda c'è, positivo capacità di soddisfare la domanda beh, diciamo che negli ultimi 10 anni grazie anche a una situazione particolarmente favorevole dei costi del danaro e una maggior fiducia da parte del sistema delle banche praticamente ogni giovane famiglia si è fatto al suo fondo immobiliare personale ha acquistato la casa finanziandola al 100% all'età di 30 anni contro i 45 di qualche anno fa con una durata di 30 anni quindi l'aspettativa è quella di dire al termine del ciclo lavorativo sarà proprietaria della casa che ha una grandissima sicurezza sociale positivo ed è una propensione a risparmio importante il problema è che essendo questo trend partito nel momento forse più basso del dopoguerra del costo del danaro l'inversione di questa che sta riportando a valori più alti ma non francamente quelli che c'erano 10 o 15 anni fa sta sbilanciando questo equilibrio che era fatto dalla fatidica rata di 700 euro al mese affrontabile dalla famiglia con due che lavoravano e sta spostando verso l'alto e dalla parte incomincia a creare un problema sociale di coloro i quali sono incapaci di sostenere questo onere mensile che si sta trasformando dai 700 ai 950 mili euro dall'altra parte esiste un problema reale del fatto che i costi delle abitazioni siano arrivati a un livello molto alto cioè i 4780 euro al metro quadro a Milano computando Ponte L'Ambro e Piazza San Babila sono alti perché vuol dire che per acquistare i fatidici 95 metri quadri che è la limite massimo dell'edilizia pubblica residenziale della convenzionata ci vuole l'equivalente precambio di un miliardo di lire che era una cifra assolutamente impensabile prima del cambio quindi bisognerebbe fortemente ragionare su cosa ha portato a un aumento dei prezzi così alto da rendere talmente difficile quello che è un mercato dinamico e che ha rappresentato per Milano la sua provincia penso al paese e tutto un fatto economico e produttivo importante nel momento in cui chiudevano le grandi attività produttive quindi l'edilizia ha dato una mano all'economia e questo è stato infatti una delle spinte mondiali dopo l'11 settembre l'edilizia come traino dell'economia quindi riassumendo mi sembri di dire l'appetito c'è ma potremmo non avere più i denti oppure potremmo avere bisogno di provvedimenti tali che permettono di per recuperare di mettere una dentiera grazie a tutti